Ci troviamo al liceo Volta di Reggio Calabria e noi siamo i rappresentanti della consulta e d'istituto. Ho un assistente fantastico. Grazie, grazie Sergio. Qui siamo in compagnia di Carmelo Barillà. Barreca. Siamo qui in compagnia di Carmelo Barreca che frequenta la... Prima B-Scienza Applicata. E allora perché siamo insieme a lui? Perché in questi mesi iniziali di scuola Carmelo è divenuto una delle mascotte del liceo Alessandro Volta. È vero? Boh, sì. Così dicono. Così dicono. E per questo è attorniato da noi rappresentanti. Allora vorremmo sapere quale peso grava su di te appunto rivestendo questo ruolo. In che senso? Allora tu diciamo sei circondato da ragazzi più grandi di te che hanno fatto più esperienza all'interno della scuola. Tu come ti senti ad essere, a rivestire questo ruolo anche tu in domani? Mi sento a mio agio. Il significato è scatologico e pragmatico della tua scelta. Cioè perché hai due scelte in Volta dal punto di vista prettamente terreno e prettamente anche astrattuale? Allora intanto perché è vicino da casa. E poi è una bella scuola. Ma diciamo ti trovi bene. Sì è una bella scuola, mi trovo bene. Ti spiegate le tue ambizioni future. Sì i professori sono anche bravi. I compagni sono bravi. I compagni bravi. Senti Carmelo ma vorresti diventare alto almeno quanto Pasquale dietro di te? Io spero. Ok un domani potrebbe capitare a te di fare questo video eh? Di essere tu il rappresentante. Ti piacerebbe? Certo. Ah ok hai visto? Davide hai trovato il tuo... È deciso passerò il testimone quindi a Carmelo. Ci stai? Ci sto, ci sto. Insieme a Morabito sarete un po' gli opposti però diciamo che può anche andare bene. Diciamo che sei nelle braccia di Morabito. Lo cullerà, lo cullerà.